Giovanna Pancari Sky, due domande Presidente. Anzitutto sull'Unione bancaria, fra le ragioni dietro l'Unione bancaria c'è anche il fatto che quando partirà la sorveglianza unica a capo della Banca Centrale Europea e anche nel momento in cui ci saranno degli stress test più seri, si potrebbero evidenziare delle situazioni di criticità maggiori nei settori bancari dei vari paesi. Volevo chiedervi quali sono le vostre aspettative rispetto invece alla tenuta del settore italiano. E poi parlando di bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti, tra le preoccupazioni maggiori sulla legge di stabilità in questi giorni abbiamo sentito anche quelle dei comuni visto che lei ha sempre una sensibilità particolare verso queste realtà. Pensate in qualche modo ad un intervento per venire incontro alle loro necessità che sono state espresse da più parti in questi giorni? Sulle banche italiane tutto ci dice che il fatto che il nostro sistema non sia stato toccato dalla crisi degli ultimi anni è segno di resilienza del sistema e io sono abbastanza convinto del fatto che questo verrà confermato da ciò che accadrà nei prossimi mesi. Quindi sono in questo senso abbastanza fiducioso. Credo però che l'unione bancaria ci serva anche a noi. È un segnale importante, è un segnale di forza complessiva del sistema. Per quanto riguarda i comuni questa legge di stabilità è una legge di stabilità che per la prima volta dopo cinque anni non taglia ai comuni ma dà ai comuni per l'esigenza dei cittadini. Vorrei che chi rappresenta i comuni italiani si ricordasse sempre questa cosa qui perché alcune dichiarazioni degli ultimi giorni mi danno a intendere che non sempre questa cosa è stata ricordata. È la prima legge di stabilità che rispetto alle esigenze dei comuni italiani non taglia ma dà. Detto questo la discussione di queste ultime ore su una questione specifica è una discussione che come è stato annunciato in queste ore e troverà da parte del governo come sempre stato in questo periodo attenzione nei confronti delle esigenze dei comuni invito ai comuni ad avere un atteggiamento dialogante rispetto a tutto questo e non avere atteggiamenti che siano diversi da quelli del dialogo. Perché col dialogo come si è dimostrato e come stiamo dimostrando anche oggi i problemi si risolvono e siamo intenzionati a risolvere anche quei problemi lì. Sì buongiorno sono Nicola Filippone dell'Agenzia di Stampe il Sole 24 Ore Radio Corre. Per quanto riguarda il capitolo della difesa volevo sapere se su Finmeccanica per Finmeccanica si dischiudono nuove opportunità dal vertice e a proposito di Finmeccanica le chiederei anche se è d'accordo con la cessione del settore ferroviario e se sì se si va verso una holding dei trasporti dove conferire queste aziende. Insomma il governo ha intenzione che Finmeccanica cambi pelle. E poi velocemente un'altra cosa riguarda l'intervista di Mucchetti di Oggi al Fatto che critica insomma il governo per non aver voluto fare la riforma dell'OPA e aver voluto favorire Telefonica le chiedo se il capitolo revisione e legge sull'OPA è da considerare chiuso. Grazie. Dunque sulla prima questione lo citavo prima Finmeccanica rappresenta sicuramente la punta avanzata del nostro sistema industriale e quindi dalle conclusioni di oggi c'è indirettamente una forte spinta alla competitività del sistema europeo e dei sistemi nazionali quindi credo che Finmeccanica ne possa avere come le altre imprese italiane segnalo che c'è uno dei punti, adesso non mi ricordo il numero ma uno dei punti è sulle SMEs nel campo dell'investimento tecnologico legato a queste materie quindi piccole e medie imprese per noi sono un asset fondamentale quindi è sicuramente un fatto positivo. Sull'altra parte della domanda ovviamente esula da questo contesto non vorrei aggiungere altro. Sul tema Telecom, giornata ovviamente oggi molto particolare, io ribadisco quello che ho sempre detto in questi mesi ma lo voglio ribadire con grande nettezza in questo momento. Telecom Italia è una società privata ed esistono delle regole di mercato che vanno rispettate perché noi siamo un paese che vuole attrarre investimenti e il cui mercato è aperto a investitori nazionali, a investitori esteri e quindi ritengo che dobbiamo partire da questa considerazione. Telecom Italia è una società privata, la rete è un asset strategico per il paese ancorché privato e quindi io ritengo che la linea che il governo ha tenuto fino adesso e che qui ribadisco il governo non parteggia per nessuno dei giocatori in campo, per nessuno dei giocatori in campo e quindi io ritengo che nemmeno il Parlamento debba fare norme che aiutino un giocatore contro l'altro però il governo è assolutamente in campo per garantire il massimo di investimenti e la necessità che questi investimenti siano fino a un livello di obbligo che sia possibile mettere in questa vicenda nel campo della rete perché il nostro paese ha bisogno di investimenti nella rete. Motivo per il quale i tre tecnici che ho nominato, Caio, Pogorell e Marcus che stanno lavorando da alcune settimane sui target, sull'asticella da mettere che riguarda i minimi investimenti sulla rete necessari per il nostro paese li ho incontrati due giorni fa, tre giorni fa, martedì mattina hanno fatto una prima review del loro lavoro questo lavoro verrà completato all'inizio dell'anno prossimo e per quanto ci riguarda quella sarà la stella polare alla quale faremo riferimento gli investimenti minimi necessari perché la rete italiana sia all'altezza della competitività necessaria e della digitalizzazione e dell'innovazione del nostro paese quello lo considero un asset strategico ed è un tema sul quale il governo è in campo però sull'altro punto io continuo a pensarla così poi siamo anche un paese libero e qui ognuno può avere ovviamente il diritto di pensarla in modo diverso ma io ritengo che il governo e il Parlamento non si debbano fare leggi in questo momento che aiutino un giocatore e buttino fuori dal campo un altro giocatore né in un senso né nell'altro quindi quella sull'OPA la metto in un altro capitolo cioè secondo me un intervento sull'OPA è necessario in generale ma non lo voglio legare a questa vicenda quindi io invoglio e spingo il Parlamento e il governo è pronto a fare la sua parte a una riflessione su come migliorare le norme sull'OPA ripeto però non legandole a una vicenda in cui è in corso una partita e i giocatori è bene che sviluppino la loro partita con le regole del gioco con le quali è cominciata questa partita